Buongiorno buongiorno, è appena uscito questo report di ARK, quelli che hanno fatto dei miliardi investendo in titoli secondo loro disruptive vanno fortissimo di questi tempi, negli ultimissimi tempi non benissimo però sono famosissimi quindi hanno fatto uscire questo report su Tesla e la loro valutazione al 2025 e vorrei commentarla insieme a voi così vediamo cosa ne pensate questo è l'analista che ha prodotto questo report, CFA sarebbe una certificazione importante, speriamo sia competente l'anno scorso credevano che Tesla avrebbe toccato i 7000 dollari ad azione ovvero i 1400 adjusted per lo stock split cioè loro pensano che da questo livello potrebbe raddoppiare o meglio, l'anno scorso nel 2020 credevano che nel 2024 questo titolo sarebbe arrivato a 1400 adesso hanno fatto un update e credono che nel 2025, ovvero tra 4 anni, il titolo arriverà a 3000 quindi da 650 a 3000 il rendimento annuo è del 46,5% annuo sicuramente batteresti il mercato se il titolo arriverà a questo livello dicono che hanno fatto un modello Monte Carlo una simulazione Monte Carlo hanno inserito 34 input nel modello e fatto 40.000 simulazioni possibili sostanzialmente non significa nulla cioè il numero di simulazioni possono mettere 100.000, 1.000.000 tutto sta in questi 34 input secondo me utilizzare 34 input è veramente eccessivo e c'è un rischio di overfitting molto importante e quindi alla fine bisogna vedere che peso hanno dato ai vari input ce ne saranno due o tre che determinano un po' tutto quanto secondo le loro proiezioni expected value è 3000 quindi il valore medio è più probabile presumendo che questo modello sia distribuito normalmente ma in realtà non è neanche una distribuzione normale o gaussiana perché ci parla di un 25% di probabilità che Tesla valga 1500 o meno e un 25% di probabilità che valga 4000 dollari o di più quindi vabbè sono dei valori campati per aria e qui nella nota dice che queste previsioni sono limitate non si possono utilizzare in maniera troppo decisa quindi procedono ad allineare un esempio del burr case un esempio del bull case ad oggi hanno venduto mezzo milione di automobili nel caso negativo ne venderanno 5 milioni nel caso positivo ne venderanno 10 nel caso negativo venderanno ad un prezzo maggiore average selling price 45.000 mentre nel caso positivo venderanno a 36.000 secondo me non ha tanto senso questo ragionamento però vabbè crediamoci quindi hanno fatto 5 milioni per 45.000 gli da 234 miliardi qui stessa moltiplicazione gli da 367 miliardi quindi sarebbe in realtà 36,7 o 10, qualcosa insurance revenue faranno 23 miliardi nel burr case faranno più soldi con le assicurazioni nel burr case e meno soldi nel bull case anche qui non ha senso e poi qui dicono sui robotaxi dicono se fanno guida autonoma se riescono ad implementarlo dentro 4 anni faranno 327 miliardi di ricavi da guida autonoma e faranno tutto con guida autonoma nessuno guiderà in maniera umana e viceversa burr case faranno 42 miliardi solo 42 miliardi poi electric vehicle il margine lordo 40% in salita da un 21% escludendo i crediti burr case mentre il bull case solo 25% total gross margin qui mi fa troppo ridere 25% qui mentre qui va al 50% 50% vabbè perché ci aggiunge questo autonomous va bene crediamoci poi EBITDA margin di nuovo qui ce l'ha più alto nel burr case ovvero nel caso negativo un po' più basso in quello positivo va bene enterprise value di 14 solo 14 se va male e invece solo 18 se va bene questo poi secondo me è un po' sballato perché se uno scenario è molto negativo gli EBITDA gli enterprise value fratto l'EBITDA che vediamo di solito i scenari molto negativi sono del 6-7% anzi 6-7% è uno scenario normale per così dire qui addirittura siamo a 14 quindi è straordinario il 18 secondo me potevano spararlo molto più grosso potevano dire facciamo 20-25 quindi io non ci credo molto comunque quindi in sintesi una 6 comporterebbe un prezzo dimezzato grossomodo dove si trova in questo momento 25 sull'EBITDA invece porterebbe addirittura sopra i 5.000 ad azione 5.000 ad azione ci sono circa un milione di azioni quindi 5 trillions di market cap 5.000 miliardi di market cap sempre se ci credete free cash flow yield sostanzialmente è più alto quando nel bull case scenario è più alto che nel bull case scenario quindi questo modello non ha senso secondo me non ha alcun senso e qui nella nota ha detto quello che ho detto io che non avevo ancora letto dice che non faranno una crescita molto aggressiva e quindi manterranno i prezzi venduti ad alto livello e questo beneficerà i loro margini va bene crediamoci poi passa le key absumption e questo mi sembra interessante da vedere usando la legge di Wright che sarebbe questa secondo la quale il costo di produzione declina come una funzione della produzione accumulata sostanzialmente il prezzo scenderà in maniera costante e qui ci fa vedere un po' il costo delle batterie al litio che è sceso però cioè dal 2005 non è che questa differenza sia così importante comunque tornando al modello dicono che il gross margin non potrà mai eccedere il 40% nel caso peggiore e il 25% nel caso migliore ricordiamo il caso migliore è quello dove producono la manetta capex efficiency ovvero quanto devono investire in azienda per produrre un'automobile nel bear case devono spendere 8000 dollari mentre nel bull case devono spendere 6000 dollari maximum annual production increase significa di quanto aumenta la produzione di veicoli 65% nel caso peggiore 90% nel caso migliore questi valori quando io vi dico già mi avete sentito dirlo delle crescite mostruose del 30 35 40% per un software enterprise e qui invece loro pensano che riusciranno a produrre del 65% di crescita ogni anno per fare una cosa di manifattura qui dice che sono la simulazione della produzione è una funzione dei cash flow disponibili per essere investiti nella manifattura di impianti per veicoli elettrici e poi c'è un limite un constraint allo scalare e questo limite dipende da disponibilità dei materiali grezzi e dai bottlenecks ovvero dei limiti causati dalla produzione di batterie che la compagnia potrebbe incontrare quindi si vuol dire tutto e vuol dire niente questo numero qui io non credo sia raggiungibile adesso qui in media Tesla negli ultimi 10 anni ha fatto una crescita del 60% circa negli ultimi 5 anni ha fatto una crescita del 38% ok adesso stanno costruendo i vari impianti sparsi per il mondo ne hanno due in costruzione una in Germania se mi seguite su Twitter avevo postato un articolo secondo il quale i lavoratori Volkswagen tedeschi non potevano andare a lavorare per Tesla o quantomeno non potevano licenziarsi e pensare di poi poter ritornare a lavorare per l'azienda in cui stavano precedentemente quindi c'è uno shortage da parte dei maschi di Tesla per riuscire a trovare questi dipendenti qui e poi ne sta costruendo una ad Austin in Texas quella Shanghai è attiva dal 2019 poi ci sono quelle in Olanda e quella classica in California quindi non so quanto veramente potrebbe crescere questo 38% annualizzato magari sale di un 50% con due impianti in più magari no vabbè vediamo qui loro dicono 65% minimum scenario e 90% nello scenario migliore comunque questo è maximum annual cioè best case scenario faranno il 90% nel bull case e poi qui c'è presume che loro riescano a fare una piattaforma totalmente automatizzata e che transiteranno il 60% dei veicoli su di essa e il 40% saranno venduti in quella strategia alla robotaxi però guidati da persone in carne e ossa quindi non lo so non mi suona molto plausibile poi qui parla delle evoluzioni al modello che avevano fatto riguardo all'anno 2024 hanno detto che spendono 11.000 16.000 dollari a veicolo per incrementare la capacity di produzione cosa significa che per produrre un veicolo in più loro devono spendere dagli 11.000 ai 16.000 in più di investimenti sugli impianti sostanzialmente hanno speso 1.3.000 di capital expenditures ovvero questi investimenti per produrre per far funzionare l'azienda e hanno prodotto 500.000 veicoli un incremento di 144.000 veicoli quindi il capex è stato di 9.200 anziché questi 11.000 poi questo per quanto riguarda il 2019 per quanto riguarda il 2020 hanno speso 3.6 3.16 miliardi di capex e quindi sono arrivati a un 10.003 di capital efficiency e poi ci dice che comunque questo capex di 10.003 può essere overstated in quanto comunque una porzione del capex viene utilizzata per finanziare dei progetti a lunga scadenza che però riguardano altre cose come ad esempio i data centers per i veicoli a guida autonoma e poi l'impianto per produzione di batterie verticalmente integrate poi al battery day hanno detto che con una nuova formula chimica e un nuovo processo manifatturiero ridurranno i costi di investimento del 75% questo è un ottimo risultato se è vero quanto dicono dunque nel loro modello abbassano il capex per auto e quindi ritornando al modello loro dicevano che spenderanno 8.000 o 6.000 per auto da uno scenario in cui partivano con 11.000 16.000 è possibile è possibile che sicuramente calino a 10.000 o a 9.000 a 8.000 o a 6.000 non lo so se crederci molto poi qui parla del business insurance per ora ce l'hanno solo in California comunque non so come funzioni in America probabilmente ci sono delle regolamentazioni di capitali come avviene per le banche come avviene in Italia con l'Ivas sostanzialmente dicono che potrebbero raccogliere 23 miliardi in revenue presumo intendono premium loro dicono che venderanno il 40% con la loro insurance e che potrebbero avere il 40% di margini su questi premi qui comunque vedete Berkshire gross margin 21% profit margin 17% quest'altra 44% comunque i margini sono molto bassi per il settore non so come riescano a derivare questo 40% di margine lordo 13% di EBIT non penso che il fatto che abbiano delle informazioni o dei dati in più riesca a migliorare insomma il pricing power su di questo e poi sicuramente il fatto che guidi una tesla e che guida autonoma e quindi fai meno incidenti quindi sei più sicuro presuppone che anche poi tutta la competizione tra i vari assicuratori faccia sì che i premi pagati siano più bassi quindi non è solo tesla che potrebbe guadagnare da questo scenario qui ma sono poi tutto il settore di quelli che assicurano le tesla che abbassano i premi per tutti quanti quindi non è neanche detto che tesla sia in grado di catturare questi premi qua senza contare che adesso facciamo uno scenario apocalittico ma dovesse succedere che un hacker si mette a fare a mandare in tilt tutti i sistemi tesla e tutte le tesla vanno in crash e vanno contro un muro nello stesso preciso giorno preciso istante tutta la flotta di tesla sarebbe distrutta e adesso immaginate quanti miliardi dovrebbe sborsare tesla con i veicoli assicurati per ripagare i clienti che si sono assicurati con tesla tralasciando il fatto che comunque se dovesse succedere un hackeraggio di questo tipo l'azienda sarebbe fallita anche senza il business insurance comunque qui parlano di 20 miliardi di operating profit nel 2025 con il ride hill ovvero l'uber e uber al momento non fa soldi quindi non so come possono presumere questa cosa qui va bene 20 miliardi di operating profit quindi sono altri 500 milioni 500 di prezzo d'azione aggiunto e questo dice che quello umano servirebbe per proteggere e limitare il downside qualora fallisse il servizio a guida autonoma non signica nulla giuro non signica nulla mi fa troppo ridere questa cosa qui cioè se loro falliscono nella guida autonoma tanto c'è quello umano no? ma uno deve chiedersi perché Tesla dovrebbe entrare nel campo del ride ailing ovvero del robot taxi o comunque del perché andare in competizione contro uber e l'unico motivo per farlo è se tu hai la guida totalmente autonoma non è che tu metti la gente normale a guidare anche perché a quel punto lì uno potrebbe dire o meglio uber e lyft potrebbero fare sempre dei prezzi più bassi rispetto a Tesla potrebbero remunerare maggiormente i loro guidatori e quindi Tesla verrebbe tagliata fuori oppure Tesla si metterebbe a fare una battaglia di questo tipo pagherebbe di più i propri guidatori e taglierebbe il profitto a uber però a sua volta aumentando i suoi costi ovvero facendo guadagnare maggiormente i suoi guidatori non guadagnerebbe lei stessa non incasserebbe ora dice che prima c'era un 30% di fare la guida autonoma al 2024 entro 5 anni adesso è aumentata la probabilità al 50% e giuro non significa niente questa frase qui mi fa infazzire perché presumendo che il modello che hanno fatto due anni fa ovvero nel 2019 per il 2024 inglobava già una possibilità del neural network di evolversi e di migliorare e quindi adesso loro ci stanno dicendo cosa che il neural network risolve dei problemi ancora più ampi e ancora più inaspettati e inaspettabili che prima non avevano tenuto in considerazione prima sembravano irrisolvibili adesso li riescono a fare e vabbè questo non significa nulla come sempre e considerate che Musk e sono anni che lui dice guida totalmente autonoma bla 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 in realtà lui ha vestito una cosa che è quasi autonoma come una cosa veramente autonoma che non esiste e i competitor tipo quello di google dice che fa ridere che sta dicendo una maria di cazzate come si può evincere questo articolo qui che non vado ad analizzare però quindi ci dice se il 60% dei veicoli avessero l'autopilot e venissero utilizzati come robot taxi si potrebbero fare 160 miliardi in più di EBITDA nel 2025 e vabbè secondo loro i veri soldi li fanno in questo modo qua con l'autopilot del robot taxi ovvero una persona lascia andare la sua auto dove vuole e la usa un terzo e questo terzo pagherà una fee e l'auto andrà da sola va bene poi vediamo questo grafico non so che dire paradossalmente dice che potrebbe arrivare anche a 28 mila miliardi di 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 capitalizzazione quindi 28 mila di prezzo ad azione questo questo pallino qui probabilità molto bassa probabilità del 50% che vada a 3 mila probabilità dal 25% in poi che vada qui e dal 25% in poi che vada sopra i 4 mila va bene poi qui le varie stime i ricavi principalmente da electric vehicles le bid maggiormente derivante da robot taxi e un po' da gli uber i guidatori di uber tesla e da una parte ovviamente faranno un sacco di soldi con gli electric vehicles e qui market cap solo 3 trillions ovvero most valuable company e va bene così conclusion qui hanno pure messo il modellino su github se vogliamo provarlo e poi hanno detto che non modellizzano gli utility energy storage o solar business cioè qui escludono addirittura che riusciranno a fare soldi col solare o con la grid stile enel e poi ovviamente non dice non vogliono tenere in considerazione tutti i bitcoin che tesla comprerà nel futuro e poi considerano bitcoin come corporate cash e niente la chiudiamo qui spero vi sia stato utile questo report che ho letto in questi 25 minuti quello che sono e se vi è stato utile se ha aggiunto un po' di valore alla vostra vita vi sarei grato se poteste mettere un like condividere il video e iscrivervi al canale e ci sentiamo grazie a tutti ciao ciao